Non voglio vivere in un paese che non ha nulla da un figlio e sinceramente non voglio nemmeno andare fuori. Vorrei così vivere nel mio paese tranquillamente. E però so che se passa il sì, non avrò questa opportunità, come tanti studiati come me. Allora, ho pensato che non voglio vivere in un paese che non ha nulla da un figlio e sinceramente non voglio nemmeno andare fuori. Vorrei così vivere nel mio paese tranquillamente. E però so che se passa il sì, non avrò questa opportunità, come tanti studiati come me. Tutto noi, il nostro dicendo, questi lo vogliamo a casa. Se lo vogliamo a casa, con il nostro voto, o se ne andrà a casa, con la nostra razza, ma di sicuro non vogliamo a casa. Forno, forno, forno di delle strade, il 4 dicendo, il suo governo cade. Tutto noi, il nostro dicendo, questi lo vogliamo a casa, con il nostro voto, o se ne andrà a casa, con la nostra razza. Forno, forno, forno di delle strade, il 4 dicendo, il suo governo cade. Forno, 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 forno di delle strade, il 4 dicendo, il suo governo cade. Forno, forno, forno di delle strade, il 5 dicendo, il suo governo cade.